Cari amiche e cari amici, ieri ho intervistato Lorenzo Maria Pacini ed è incredibile come questo ragazzo sia veramente geniale. Ieri gli ho parlato delle piste ciclabili e ho detto guarda Lorenzo che c'è una stranezza in queste piste ciclabili e credo che sia collegato con un progressivo controllo proprio dei nostri movimenti. Non ne posso essere certo al 100% però il fatto che mi dicono anche amici da Parigi che anche lì stanno costruendo queste piste ciclabili e ci sono già dei settori dove sono praticamente già delle zone chiuse alcuni quartieri e questo mi fa pensare che poi gradualmente il discorso delle zone rosse venga riproposto con queste limitazioni delle piste ciclabili e il controllo sempre dei nostri movimenti con il pretesto poi dell'ambiente, dell'inquinamento e così via. Non neanche finito di parlare oggi su un articolo di Lorenzo Maria Pacini su ideazione. Insomma un articolo che vado a leggervi subito complimentandomi con Pacini per la celerità con cui ha colto al volo questa idea e ne ha fatto un bellissimo articolo. Vi siete chiesti come mai stanno costruendo piste ciclabili dappertutto? Non solo in Italia ma anche in altre nazioni europee? Da un anno a questa parte è partita una poterosa opera infrastrutturale di costruzione di quelle che sembrano essere delle piste ciclabili in tutte le città delle metropoli ai paesini sperduti. Fermo restando che si tratta di una scelta ecologicamente sensata e del tutto appoggiabile che ridurrebbe, magari, la circolazione delle numerosissime automobili restituendo un po' di aria meno malzana agli abitanti dei centri urbani e favorirebbe l'attività motoria la cui centralità per la salute è più che conclamata non è però altrettanto chiara la finalità ultima di questo progetto che viene realizzato in contemporanea in molti paesi del continente in Italia a partire dal bando dell'Istituto per il Credito Sportivo in linea con il DL 34 del 19 maggio 2020 e in continuità con la programmazione di Agenda 2030 sul clima e la transizione ecologica ecco che spunta fuori l'agenda 2030 continuo come al solito però la politica si fa sulle lunghe distanze e determinate scelte strutturali non vengono mai lasciate al caso specie là dove sono gestiti da enti sovranazionali che non rispondono alla volontà popolare e che operano a spese nostre senza rendere conto a nessuno leggendo recenti documenti dell'Unione Europea in merito alle biciclette e al Grand Deal previsto per tutti gli Stati membri emerge l'interessante dato del controllo degli spostamenti e della possibilità di creare spazi di interdizione e percorsi obbligati solo se in linea con le direttive politiche ciò significa, in poche parole che l'idea è quella di limitare gli spostamenti a determinati spazi circoscritti ad esempio le piste ciclabili nel nostro caso e solo a precise condizioni di carattere politico diventa ancora più interessante se consideriamo che il dato politico è quello che nell'ultimo anno e mezzo ha significato il dove, come e quando spostarci introducendo di recente le condizioni del passaporto green questo vuol dire, in proiezione, la vera simiglianza di uno scenario in cui per uscire di casa saremo costretti a usare solo certi spazi ben controllati, con precise condizioni di circolazione solo con certi mezzi e ovviamente soltanto con la carta verde in regola secondo le disposizioni sanitarie indicate dalla linea politica di turno cari amiche e cari amici, è il nuovo modo di ingabbiarci è il nuovo modo di tenerci in gabbia qui se non ci muoviamo e facciamo qualcosa quindi ci si continua a fare come i polli di renzo a beccare, a dividersi e questi sono i suoi risultati vado avanti se per alcuni questo può apparire impensabile basterà far notare, come il solito meccanismo della creazione di una consuetudine comunemente accettata dopo essere stata arbitrariamente imposta sia la ragion d'essere del cosiddetto diritto vivo da cui scaturiscono le leggi e di come questo meccanismo sia stato alla base della imposizione di norme liberticide contrarie ai diritti umani nell'ultimo anno e mezzo con accettazione passiva e silenziosa della maggioranza delle persone solo uno stolto proporrebbe qualcosa di male chiamandolo col proprio nome davanti alle persone esponendosi così a un rifiuto diretto il furbo invece camuffa sempre il male sotto le vesti del bene introduce la menzogna e ciò che è nocivo con gradualità adattandosi fluidamente alle esigenze, alle credenze e alle dinamiche sociali così come è successo per la suddivisione a zone di colore durante la seconda fase di chiusure similmente potrebbe accadere con queste nuove vie travestite da soluzioni eco-sostenibili obbligando la popolazione a poter viaggiare solo entro limiti definiti e rigorosamente sotto il controllo metodico degli agenti del potere ogni rappresentazione distopica che si rispetti prefigura un controllo onnipervasivo del potere dominante sulla società intera considerando che quanto profetizzato si sta realizzando a colpi di modificazioni legislative ristrutturazione antropologica e programmazione ideologica delle masse forse la fantasiosa ipotesi espressa in questo articolo potrebbe non essere così tanto impossibile questo lo trovate su Ideazione a firma di Lorenzo Maria Pacini che ringrazio di cuore e credo anche perché ho parlato ultimamente con Roberto Pecchioli con il simpatico e affabile Roberto Pecchioli il quale mi ha detto che avrebbe scritto anche lui qualcosa sull'argomento perché stranamente ne ho parlato solo io in internet e questa invece è una situazione gravissima che ci annuncia ulteriori limitazioni della libertà cari amiche e cari amici ringrazio ancora Lorenzo Maria Pacini lasciate un piccolo contributo per il decimo toro e dobbiamo essere uniti dobbiamo muoverci insieme dobbiamo fare qualcosa soprattutto anche con queste leggi preoccupanti che riguarderanno i nostri bambini e l'educazione sessuale che imporranno nelle scuole un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo